Salve, visitatori di un altro pianeta! A febbraio, correte al cinema. Lucy e gli altri sono stati rapiti. Io vado a riprenderli. Allacciati le foglie, piantina. È in arrivo un'avventura da un altro pianeta. Cos'è questo posto? Il divertimento sarà spaziale. Namaste. Sembra molto spirituale. Sembra una trappola. Quello è un vampiro. Un vampiro teenager attraente e non minaccioso. The Lego Movie 2. Una nuova avventura. Dal 21 febbraio al cinema. Grazie a tutti.